L'incidenza di alcuni tipi di tumori nell'area della discarica Martucci di Conversano sarebbe superiore alle medie regionali. Il dato emerge da uno studio epidemiologico che il Comune di Conversano depositerà agli atti del procedimento per disastro ambientale avviato dalla Procura di Bari, con il chiaro obiettivo di contrastare l'ipotesi di riapertura dell'impianto. Secondo lo studio, condotto attraverso i dati forniti da un gruppo di medici di base di Mola di Bari, Monopoli, Castellana Grotte, Turi, Rutigliano e Noci, i tumori dell'apparato respiratorio e del sistema nervoso registrati nel periodo 2002-2005 sarebbero superiori rispetto alla media regionale, così come i dati sulla mortalità. Dati che dovranno essere sottoposti per una più approfondita valutazione ad un gruppo di specialisti. Per quanto riguarda invece la situazione incontrata Martucci, per la quale associazioni ambientaliste e comitati civici hanno chiesto lo stralcio del piano regionale dei rifiuti, si attende l'esito della perizia disposta dal GIP nell'ambito dell'incidente probatorio su una delle vasche di smaltimento dei rifiuti. Ad oggi non si conosce ancora, secondo lo studio epidemiologico, quali tipi di rifiuti possano essere nascosti o come questi sono stati stoccati. Non si conosce dunque quali e quante sostanze tossiche siano state riversate nell'ambiente, anche se l'ARPA nel corso delle prime perizie nella falda acquifera della zona avrebbe rilevato la presenza di ferro, manganese e piombo in quantità superiori rispetto a quelle previste dalle normative vigenti. Sarebbero inoltre presenti anche nitrati e ammoniaca.